Michele Pizzocro, dopo la partita contro la Drense dei mesi di Coppa Italia, dei mesi difficili, tanti infortuni, finalmente si è stato bene, il mister ti ha subito dato fiducia, un esordio più che positivo oggi contro la Reggiana Sì, come esordio abbastanza bene, sono soddisfatto, contento, nonostante magari ancora qualche acciacco, però penso che è stata un'ottima opportunità che il mister mi ha dato, sono contento e spero di continuare a far bene Hai affrontato la gara con personalità, cercando anche giocate di qualità? Sì, ho provato a fare del mio meglio, ho provato a fare quello che mi ha chiesto il mister prima della partita, ci ho provato e nonostante questa era la partita andata male e c'è dispiacere per questo Quanto rammarico c'è per aver perso una partita quando si era già in superiorità numerica? È successo anche a Zola che si è avuto la rimonta da parte degli avversari quando si era in superiorità numerica? Sì, non è la prima volta che ci capita questo tipo di sconfitte, anche perché siamo partiti il primo tempo, nonostante sofferenze e tutto, siamo riusciti ad andare in vantaggio Però nel secondo tempo, come ho già detto, abbiamo subito due gol e non siamo riusciti a mantenere il risultato positivo Questo è il principale rammarico, perché comunque la partita è stata giocata a buoni ritmi e a viso aperto Con Cili Verghe che ha giocato con personalità, al primo tempo si poteva chiudere anche con un vantaggio maggiore Nella ripresa si è cercato il raddoppio quando si era ancora in parità e poi subito il 2-1 si è tornato in attacco per cercare il pareggio Questo è un punto da cui ripartire? Sì, questo sicuramente, però dobbiamo continuare sulla nostra strada, continuare a lavorare bene durante la settimana e cercare di evitare o cercare di mantenere i risultati positivi che costruiamo durante le partite Grazie